ciao gnari rezzato rezzato villa singola tutta su piano unico con un giardino bellissimo località santuario gnari santuario introvabile veramente introvabile questo giardino davanti poi gira anche di qua è libera sui quattro lati la casa una villa singola ai roba è tenuto anche bene anche vista località santuario rezzato introvabile affare unico correre vi faccio vedere ancora un po di esterno poi entriamo dentro questo portico e questo lo scivolo di accesso per le automobili e per andare al garage cioè senza parole senza parole gnari a senza parole prossimo filmato interno ciao